Ambizioni tante, non solo sportive. La volontà infatti è quella di coinvolgere e instaurare un rapporto sempre più profondo con l'ambiente. Nasce con queste intenzioni il progetto Città di Chieti, squadra neopromossa in prima categoria. Il progetto è stato presentato qualche giorno fa dal presidente Fabio Lavalle. Intanto sono stati confermati due mister delle prime squadre, Giuseppe Santovito per il calcio 11 e Fabiano Di Muzio per il futsal di Serie B. Naturalmente non mancano le novità come l'ingresso del nuovo patron Cristian Poglio. Ascoltiamo in sequenza prima il presidente e poi il nuovo patron. Ci presenteremo in asti di partenza di questo campionato di prima categoria con l'obiettivo sicuramente di ripetere la cavalcata della scorsa stagione. Dire subito vincere sarebbe presuntuosi, però stiamo allestendo un organico che sicuramente darà filo da torcere a tutte le concorrenti e sicuramente credo che possa conseguire gli obiettivi che ci siamo prefissati. Anche nel futsal cercheremo di mantenere la categoria nazionale della Serie B e spingendoci, cercando di alzare l'asticella e iniziare a vedere quella prima lettera dell'alfabeto che fa venire le vertigini, però siamo ben strutturati per poter eventualmente fare un salto di qualità anche nel futsal. C'è poi la questione del campo. Al Sant'Anna dovrebbero partire i lavori. Ancora la valle. L'amministrazione ci ha comunque garantito la possibilità di utilizzare le strutture pubbliche ad uso pubblico che ci sono all'interno della città di Chiedi, quindi comunque noi la nostra attività è salva, ovviamente sperando di avere meno di servizi possibili per via di questi lavori che non si sa quando partiranno. Nello stesso tempo abbiamo anche fatto pervenire un'offerta di supporto, di rinsaldare ancora di più i rapporti con l'attuale prima squadra della città, il Chiedi FC. Una proposta per poter essere di supporto sia per l'impiantistica che loro hanno in gestione, ma anche per l'aspetto sportivo. Mi è stata data questa proposta di prendere la carica di padron della città di Chiedi e sinceramente è un impegno, è una responsabilità che mi va di prendere perché poi le competizioni a tutte le categorie sono quelle che ti tengono vivo. Quest'anno abbiamo pensato di fare un'iniziativa che vorrei fosse sposata da quante più persone possibili, dai miei concittadini e si chiamerà ci metto la firma città di Chiedi. Che cosa significa? Che quest'anno la maglia ufficiale del città di Chiedi, a fianco al numero, di lato, di sopra, di sotto, spero abbia tanti piccoli scarabocchi che in realtà altro non saranno che le firme dei nostri concittadini che con un contributo simbolico di 50 euro aiuteranno la nostra società a connaturarsi sul territorio sempre di più. Abbiamo oltre 500 ragazzi che sono tesserati e che giocano dai primi calci fino alla Juniors nonché la prima squadra quindi cerchiamo di essere al pari delle altre realtà quali il Chiedi e il River quello che è il tessuto sportivo e sociale di questa città e noi abbiamo intenzione di creare una società che sappia nella popolazione né i tifosi neroverdi essere il motore di quelle che potranno essere le nostre iniziative.